Buongiorno 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 Ti ho fatto il pasta al formaggio Uh, il mio preferito Amore, ieri sera è stato veramente paradisiaco Lo so, lo so Mi sono svegliata, stamattina mi sembrava di avere le tete più grosse Scusate, non sembrano più grandi Ah, come? No, ehm No, sono uguali Più grandi Ma dai! Guarda qui che roba Ti prego, sono decisamente più grosse Cioè, guarda, sono gigantesche, due bombe Ma, santi, io devo andare Ma questa teta al formaggio era Perfetto Aspetta, grazie Ma dove vai?